Ciao a tutti, folettine e folettine, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video spacchettamento, mi è arrivato un pacchettino da parte della mia mamma del cuore, che come voi sapete sono iscritta su Sequel Life e lì ho una mamma del cuore, un papi del cuore, una sorellina e la mia mamma ha deciso di mandarmi questo pacchetto, questo è il pacchettino, vedete? Ve lo faccio vedere da questa parte perché dall'altra parte ci sono i miei diritti, non mi sembra il caso. Adesso lo apriamo insieme, iniziamo. Allora, premetto che una di queste cose sapevo già cos'era, l'altra no. Allora, intanto leggiamo la lettera. Ascolta bellissima, Maria Grazia, quando sorridi regali emozioni che nemmeno un alba o un tramonto possono dare. Sfrigioni un'energia che fa tornare la voglia di vivere. La vita è un percorso che va vissuto giorno per giorno con molta fiducia in se stessi e ricordarti da persone positive, ah, circondarti, scusate, da persone positive, che ti vogliono bene e dalla natura. Le nostre lacrime non le merita nessuno. La vita ci ha regalato l'arcobaleno per farci sorridere. Esso è fatto con i sentimenti di ognuno di noi e compare dopo la pioggia, regalandoci il sole perché non può piovere sempre. E per te è arrivato il momento del sole, il disegno pieno di colori e l'arcobaleno che ti regaliamo per iniziare e continuare a sorridere. E questa lettera verde è la speranza che insieme all'arcobaleno e alla positività e al nostro ti voglio bene che possano dare la forza e la spinta giusta per farti arrivare alla felicità e vivere la vita con più sorrisi. Ricordati, se ti sorride anche il cuore, splenderai. Sempre di più ti vogliamo bene. Mami Antonella, Adrian, Giancarlo e Crizia. Grazie mille, vi adoro. Bellissima lettera, molto molto bella. La conserverò. Allora, adesso apriamo i regalini. Vediamo un po'. Allora, questo qui era quello che sapevo, il capellino del Napoli. Molto bello, guardate. Ve lo metto su, dai. Il video oggi lo faccio così. Che dite? Come sta? Lasciatemi giù nei commenti come sta. Molto bello. Piace, piace, grazie. Allora, poi dopo abbiamo questa bellissima sciarpetta, vedete? Che per l'inverno non guasta mai, anzi. Bellissima, grazie mammi, un bacio. Molto bello. Poi dopo, questa spilletta, con questi occhiali molto molto carini. Adoro, mammi, la indosserò sicuramente. Vedete? Ve la avvicino. Poi dopo, un pupazzetto. Una specie di puffo, non so. Ah, si illumina, che fico, guardate. Guardate, che carino. Dai, questo è molto molto carino. Grazie, mammi. Lo metterò assieme agli altri pupazzetti che ho in cameretta. E poi dopo ci sono un miliardo di campioncini. Mamma mia. Guardate, ci sono profumi, Giorgio Armani. Creme. Che meraviglia. Guardate. Li proverò sicuramente, mammina. Ce ne sono di diversi tipi. Adesso non so di preciso cosa siano. Devo, me li leggerò con calma. Ma ce ne sono veramente di tutti i tipi. Guardate. Beh, che dire. Ringrazio la mia mamma e la sua famiglia per questo bellissimo regalo. Che adoro. Un bacio. Vi voglio un mondo di bene. Che dire, se questo video vi è piaciuto mettete un gran mi piace. Iscrivetevi al mio canale. Condividetemi i video su tutti i vostri social. Con tutti i vostri amici e amiche. Iscrivetevi alla mia pagina Facebook Follettina Creation. Per chi volesse mandarmi un pacchetto come ha fatto la mia mamma. Vi ricordo la mia email. MariaGrazia.Catalano.chiocciolotmail.it Contattatemi lì. Sarò ben felice di ricevere anche solo una vostra letterina. Beh, che dire. Ringrazio tutti per i 4.000 iscritti e vi annuncio già che presto ci sarà il video speciale 4.000 iscritti. Che sto aspettando che mi arrivi un megapacco dalla mia sorellina dorata. E quello sarà lo speciale 4.000 iscritti. Vedrete, vedrete, Follettine. Beh, che dire. Ci sentiamo alla prossima. Un bacio. Ciao.